Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Iniziamo insieme questa piccola esperienza di Catechesi sulla preghiera. Quindi diciamo insieme una preghiera per domandare che lo Spirito ci aiuti in questo momento. Dio nostro Padre manda su di noi il tuo Spirito Santo perché spenga il rumore delle nostre parole, faccia regnare il silenzio dell'ascolto e accompagni la tua parola dai nostri orecchi fino al nostro cuore, così incontreremo Gesù Cristo e conosceremo il suo amore. Egli vive e regna ora e nei secoli eterni. Amen. Certamente faremo una piccola esperienza, o meglio tre piccole esperienze in questa settimana, fermandoci un secondo, sostando un attimo, a riflettere sulla preghiera, su che cosa sia la preghiera, su che cosa voglia dire pregare. Le cose che diremo saranno di un'utilità molto banale, probabilmente, ma permetteranno di tirare fuori alcune domande che di solito non si tirano fuori, perché effettivamente se in una serata si parla di, che ne so io, moda, fashion, calcio, motori, politica o altro, è raro che uno a una cena inizi a dire bene, parliamo della preghiera. Bene, proviamo, proviamo a entrare dentro questo tema, in punta di piedi, da qualunque parte, con informazioni anche magari banali, per certi versi. Poi, piano piano, magari qualcuno avrà voglia di inviare delle domande, delle riflessioni, da leggere insieme, da coltivare insieme, liberamente. Ho intitolato questa conversazione, Signore insegnaci a pregare, questo mi sembra che sia buono e di buon auspicio, ecco, e come sottotitolo ho messo questo, Seguire il Signore è essere se stessi. Questo perché vorrei su, fin da subito, proprio entrare dentro l'idea del perché pregare? Che cosa serve? Pregare. Pregare serve per stare vicino al Signore, per seguire il Signore. Per seguire il Signore ci serve per essere maggiormente noi stessi. L'essere umano si sviluppa piano pianino e forma in sé un io cosciente, un io cosciente di se stesso. L'essere umano cresce piano pianino, si sviluppa come uomo, sviluppa un proprio io, una propria personalità, e poi chi ha studiato può raccontarvi tutte le varie fasi dello sviluppo, come prima il bambino abbia a cuore solo se stesso, poche storie, poi pianino pianino allarga gli orizzonti, riconosce la mamma e il papà, riconosce gli amici, riconosce la maestra dell'asilo o quella delle elementari, come inizia a tessere delle relazioni, come queste relazioni gli fanno anche capire qualche cosa in più di se stesso, perché lui si era fatto un'immagine di sé fatta in un certo modo, ma quello che gli altri dicono, gli altri che sono fuori di lui, gli danno delle idee importanti, delle dritte importanti, ma l'ultimo stadio è poi comunque sempre rientrare in se stesso, perché gli altri possono dire quello che vogliono, ma chi decide chi sei, devi deciderlo tu, ma non tu da solo, ecco allora che piano piano si forma un io che conosce il bene, che conosce il male, un io che a volte è un po' stiracchiato dalle passioni di questo mondo, un io che certamente ha un anelito grande, ha un anelito grande alle cose del cielo, per cui l'uomo dice il concilio, è così, è una realtà ambigua, la chiesa che è formata da uomini e di uomini sono realtà fatte di terra e fatte di cielo, sono realtà fatte di un'umanità fragile e anche di un'umanità grandissima, di un'umanità carnale, che cede a tante cose, e di un'umanità spirituale, che guarda a Dio, suo creatore. L'essere umano si sviluppa, cresce, fino a un certo punto, poi dopo trova il comprendomio magari, si sviluppa, cresce, perché appena sposati si pensa di sapere cos'è il matrimonio e poi dopo 25 anni è meglio fare il tagliando e vedere se non si è cambiato qualcosa, perché dopo 20 anni che fai il prete o 30 anni che fai il prete, che cos'è essere prete, forse è cambiato, forse è cambiata in te la percezione del mondo e non solo perché, che ne so io, ti è venuto il calo della vista, la caduta dei capelli o il male alla schiena, ma tante esperienze si sommano, interrogano, formano. in ultima analisi comunque un uomo rientra in se stesso, rientra in se stesso e scopre l'ultima istanza che gli dice chi è veramente nella sua coscienza. prima è io e non gli altri, dico io, comando io, decido io, poi piano piano gli altri sono importanti, il loro parere, ma alla fine rientro in me stesso e trovo la voce di Dio, come abbiamo già detto in altre occasioni nel dialogo delle Carmelitane, abbiamo parlato della coscienza, nucleo segreto e sacrario dell'uomo, dove si trova solo con Dio, dove Dio e l'uomo possono parlare a tu per tu, dove la voce di Dio risuona nell'intimità dell'uomo. Per pregare, per pregare non ho il tempo, in queste giornate di confinamento c'è stata tanta preghiera, io non so se continuerà anche dopo, io spero bene, perché si sono viste proprio delle persone che hanno scoperto la gioia e la voglia di pregare in casa, di pregare a casa, di pregare con gli amici, perché non importa sempre solamente seguire percorsi mondani per stare insieme agli amici, benissimo, ecco, però tanto spesso la vita di tutti i giorni toglie il tempo, toglie il tempo alle persone, si sentono espropriati del proprio tempo, devo fare questo, devo fare quello, non posso, non ho tempo, hai tempo, hai tempo, avrai tempo esattamente come tutti gli altri, non è che uno che prega, prega un'ora al giorno perché ne ha 25, ne avrà 24 come tutti, sceglie di dedicare un'ora alla preghiera, non ho tempo, tra l'altro è una cosa appunto curiosa, mentre lo spazio è quella dimensione dell'uomo dominabile che in certa misura noi ci mettiamo di buona lena per modificare, cambiare, per formare e ricreare a nostra immagine e somiglianza, il tempo invece è quella realtà che noi non possiamo dominare o cambiare scorre inesorabile e non guarda in faccia a nessuno ai buoni e ai cattivi ai belli e ai brutti a tutti gli uomini continua scandito da Dio perché è la sua dimensione non è tanto la nostra dimensione questo è interessante proprio perché non dobbiamo è scritto così un po' non dobbiamo limitarci a vivere la vita o a sopravvivere la nostra vita ma esserne coscienti essere coscienti di come la nostra vita scorre altrimenti uno dice va bene è chiaro passeranno anni gli anni volano che non ci se ne accorge ma quello che si fa in quegli anni di quello che si fa in quegli anni io devo essere ben consapevole e ben cosciente per questo ecco così la prima idea che lanciamo è questa passiamo dalle preghiere dalla preghiera al pregare è una differenza sciocca ma per me è importante il fatto che non dobbiamo dire delle preghiere perché dire delle preghiere vuol dire usare formule ma dobbiamo pregare pregare anche con le formule passare dalla preghiera al pregare è comunque passare da un sostantivo la preghiera può essere una cosa un cartoncino un libro un manuale una pergamena quello che è a un'azione a un gesto pregare la preghiera esiste sui banchi della chiesa lì lasciata alla merced di chi la usa ma è chi la usa che prega che passa al pregare ecco allora questa dimensione attiva e vivente fa parte integrante della preghiera la preghiera non può essere mai una realtà morta per questo chiede attenzione non perché Dio sia invidioso o geloso se noi abbiamo altre attenzioni se durante la preghiera io mi distraggo benissimo capito poi lo confessiamo al confessore benissimo giustissimo giustissimo ma io sto facendo la preghiera sto pregando sto pregando magari male sto pregando distratto sto pregando disattento ma io sto agendo la preghiera se la considero una cosa insomma alla fine dei guai tante cose fatte bene o fatte male sono poi fatte ecco se invece la considero una parte stessa della mia autocoscienza il mio essere consapevole di me stesso allora è un po' diverso la preghiera la preghiera cresce la preghiera cresce mentre io cresco la preghiera cresce con me cambia con me si adatta a me o meglio io la adatto a me perché non è che la preghiera si debba adattare come un vestito o sono ingrassato sono dimagrito ho cambiato taglia vado in un posto dove vengono i vestiti secondo quella taglia no il problema è che io devo adattare la preghiera a me devo ritagliarla addosso a me se è uno strumento per rendermi cosciente di me stesso allora la preghiera dovrà seguire me io non posso pregare ancora semplicemente o unicamente le preghiere del giorno della prima comunione anche quelle perché no anche una preghiera semplice anche una preghiera popolare insegnata dalla mamma dalla nonna dal babbo e dal nonno lo dicono meno ma va bene comunque insomma auguro di avere delle grazie che tutti insegnino a pregare è chiaro che anche una preghiera semplice insegnata da un familiare può essere una grazia però non può essere esaustiva della mia preghiera perché la mia preghiera si dovrà arricchire a seconda della mia crescita nel momento in cui crescono le mie facoltà i miei sentimenti i miei pensieri se non cresce anche la preghiera con me il mio rapporto con Dio rimane frenato poi è chiaro che a tutti piace fare i bambini in certe situazioni ma per un minuto per gioco per scherzo poi basta agli adulti in teoria piace avere un rapporto da adulti e anche a Dio probabilmente piace essere trattato e trattare noi da adulti quali siamo e diventiamo proprio perché c'è questa relazione che cresce mentre io cresco se non cresce ecco poi è chiaro che quando un adulto si trova e pensa di compiere azioni da bambino magari dice anche no probabilmente ne evita ne fa meno giustamente è una dimensione la preghiera è una dimensione dinamica non statica non è la preghiera il fermarsi per uscire dalla propria vita e compiere delle azioni sacre la preghiera è un atto di religione è un atto compiuto dalla persona umana per cui quella persona umana che si tira dietro un sacco di cose eh quella compie l'atto di pregare per cui il dinamismo della vita quotidiana per cui io vengo da mille luoghi e andrò in mille luoghi compenetra la mia preghiera esattamente come si spera che l'importanza data a quella preghiera compenetri in mille luoghi dove io sono stato e dove io andrò se non do importanza o se creo diciamo così dei comparti separati per cui un conto è la vita che vivo un conto è la mia vita di fede allora effettivamente quelli della preghiera rimangono solo atti di pura religione ma non sono atti credenti di una persona che crede in Dio perché la preghiera coinvolge tutto l'essere umano nelle sue dimensioni fondamentali tocca tocca il proprio vivere il proprio volere il proprio sentire i desideri tocca gli affetti tocca tutto quello che noi siamo nel profondo questo è un luogo grandemente dinamico non statico per questo ecco la preghiera si configura come uno strumento per chi cerca di comprendere se stesso la preghiera è uno strumento ordinatore per cui alla fine dei guai usando la preghiera nella mia vita si scoprono tante 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 grazie si scoprono tante 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 risorse dico sempre un po' è un po' come quando si fa la valigia uno fa la valigia non ci sta più niente in valigia c'è stata metà della roba che doveva starci in valigia cosa si fa allora si chiama la mamma si chiama la mamma la mamma arriva svuota rimette a posto ci sta tutto e c'è anche del posto perché effettivamente molto spesso i nostri affetti i nostri desideri le nostre emozioni le nostre paure sono disordinate e cozzano l'unico le altre nella nostra vita quando vengono ordinate quando vengono conosciute nella loro realtà più profonda ecco che danno un nuovo senso alla nostra esistenza per questo ecco chi prega grida verso Dio credendo chiedendo aiuto per conoscere meglio se stesso e per conoscere meglio il mondo la preghiera quindi ha un aspetto dinamico ha un aspetto dinamico tra poli anche opposti c'è il silenzio e la parola la preghiera nasce dal silenzio non nasce dalla parola perché appunto non nasce da quello che io dico per formare il mondo ma nasce da quello che io cerco di ricevere per comprendere me stesso per questo io 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 dovrò imparare ad ascoltare dovrò imparare a fermare me stesso e ad ascoltare quello che mi viene detto quello che mi viene dato quello che mi viene dato come aiuto per comprendere il mondo che mi circonda dall'ascolto dall'ascolto nasce poi o corrisponde all'ascolto meglio la parola se a Dio che si rivela è dovuta all'obbedienza della fede beh l'obbedienza della fede che si trasforma in ascolto l'audienza l'obbedienza chi si rende disponibile nell'ascolto riceverà una rivelazione la rivelazione non di novità mistiche sul futuro del mondo ma sicuramente l'aiuto per conoscere e capire meglio se stesso e il mondo che lo circonda silenzio e parola uniti in un dinamismo come in una riga musicale i pieni e i vuoti danno meglio vita all'armonia le pause di silenzio e i pieni delle note la durata delle singole note come in una composizione floreale se avete presente ci sono tanti fiorai che fanno la composizione floreale infarcendo un luogo di fiori ma chi sa creare la bellezza con i fiori mette alcuni fiori e crea dei vuoti e dei pieni crea un ritmo crea un'armonia attraverso cose strane che io non capisco non conosco quindi sicuramente non ne parlerò quell'ascolto che diventa luogo accogliente per una parola diventa il luogo dove si forma un dialogo dove poi chiaramente le voci sono due chiaramente vuoto e pieno si corrispondono e si armonizzano ma cercano di farlo nel rispetto l'uno dell'altro e rispondendosi a vicenda nella maniera più corretta concreta possibile questo diventa un luogo costruttivo chiaramente ci sono rumori esterni esteriori e rumori interiori che vietano l'ascolto che vietano il silenzio che tolgono la possibilità di creare un luogo la preghiera è chiaro abbiamo detto che veniamo da mille situazioni ed è chiaro che quelle mille situazioni devono essere parte integrante di quello che noi viviamo e di quello che noi preghiamo lo sono e lo saranno sempre forse il problema è un altro e quando diventano semplicemente rumore e quando diventano non luogo fertile per l'ascolto ma quando diventano luogo sterile che impedisce l'ascolto che allontana l'ascolto luogo che vuole un'attenzione non adatta alla possibilità di rivolgere il cuore a Dio e quando ci sono tanti problemi fuori che si possono probabilmente arginare abbastanza bene ma tanto problemi dentro problemi interiori che ci impediscono di ascoltare con verità la parola del Signore che ci impediscono di pregare con verità perché quel silenzio alla fine è la ricerca di una voce è chiaro che la solitudine piace a tutti poco alla volta è bellissimo ah non vedo l'ora di stare un po' da solo sì perché è una vita convolsa ma quando uno poi deve stare veramente da solo non ha nessuno attorno non ha nessuno che lo cerca non ha nessuna voce amica che lo cerchi è veramente dura noi abbiamo la grazia nella preghiera di vivere l'esperienza della ricerca della voce di Dio come dice Salmo 26 poiché se tu non mi parli io sono come uno che scende nella fossa si potrebbe dire che il silenzio è una condizione innaturale ma il problema è qual è allora il rumore naturale naturale perché è chiaro che se io sono il centro dell'universo la mia voce è il rumore naturale della mia vita se io non sono o mi rendo conto di non essere bastante a me stesso allora il mio silenzio è la ricerca di una voce che possa essere più grande più importante meglio della mia questo ci introduce alla considerazione della preghiera come un luogo dinamico tra l'assenza e la presenza come sapete che non sempre essere presenti è la cosa migliore ci sono quelle volte ero come diceva la mia povera zia italina che aveva un carattere un po' scattosetto ma aveva trovato lo zio luigi che anche lui era scattosetto e dico ma zia ma come fate a mettervi a posto e dice beh io ho imparato a stare buona e poi gliene parlo il giorno dopo perché tanto se scattavano tutte e due non concludevano niente di buono assenza e presenza un genitore assente è un genitore che non fa crescere il figlio un genitore troppo presente è un genitore che soffoca il figlio tutti sanno che io non tocco le piante perché ho il terrore di distruggerle perché non ho capacità eccetera perché so che troppa acqua le fa marcire esattamente come troppo poca le fa seccare bisogna sapere qual è la giusta via di mezzo non è semplicemente la metafisica dargli niente acqua si secca dargliene un litro marcisce gliene do mezzo litro bisogna sapere di quanta acqua ha bisogno quando ne ha bisogno in che modo dargliela perché 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 ogni pianta è fatta a modo suo e ogni cristiano è fatto a modo suo per cui la preghiera è un eterno dinamismo tra l'assenza e la presenza di Dio vado a pregare e sento Dio presente nella mia anima vado a pregare e non sento assolutamente niente quale dei due momenti è stata di vera preghiera chi lo sa il Signore ce lo saprà dire quando avrà voglia di farcelo sapere però certamente dovrò stare attento a qual è il senso dato a quell'incontro e a quella relazione oggi in questo incontro il Signore non mi ha detto nulla ah ecco vedi ce l'ha con me magari oggi in questo incontro il Signore non ha detto nulla voleva essere consolato perché ne vedi tutti i colori il Signore dalla tua presenza può anche darsi questo non è dato saperlo il problema è ci mettiamo veramente in una relazione dove ognuno avrà le sue glorie e i suoi difetti e beh vediamo ecco il Signore sarà assente e presente come anche noi spesso siamo assenti e presenti ecco possibilmente il Signore non giocherà con noi sicuramente proviamo almeno noi a non giocare con Lui a prenderlo in giro vediamo velocemente e concludiamo questo brano del capitolo 11 del Vangelo di Luca poi lo continueremo nei prossimi appuntamenti un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse Signore insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato i suoi discepoli e gli disse loro quando pregate dite Padre sia santificato il tuo nome venga il tuo regno e poi continua il Padre nostro nel Vangelo di Luca sapete è leggermente diverso da quello che conosciamo tutti di Matteo ecco Gesù un giorno un giorno eh non era fuori dal tempo o uscito di senno Gesù un giorno che giorno era? era un giorno oggi è martedì domani è mercoledì non so che giorno era di preciso ma era un giorno era un momento Gesù pregava la mattina pregava la sera pregava deve esserci un momento non può essere così lasciato al caso nessuno ti dirà ecco hai un momento lo devi prendere lo devi programmare lo devi scrivere poi è chiaro che non è che il momento della preghiera può essere una scusa per non assolvere i propri doveri i doveri di lavoro o doveri familiari o doveri doveri che ne so io quali sono ecco però ci deve essere un giorno un tempo un momento se è possibile che sia determinato a scendere a patti si fa sempre a tempo non è un problema un giorno Gesù si trovava in un luogo che era un luogo qualunque dove era era perché si può pregare a Bolzano e si può pregare a dare salam si può pregare dove sei sei dove sei puoi pregare ma ecco tra virgolette era un luogo che il Signore trasforma in luogo di preghiera è vero che in qualunque luogo si può pregare però poi Gesù si allontanava anche dalla casa per andare a cercare un luogo solitario in cui pregare e già a casa sua faccio per dire si stava bene ecco già nelle case che lo accoglievano poteva chiudere la porta e pregare benissimo può essere la tua camera benissimo può essere la tua sala ma benissimo può essere la chiesa da cui passi di fronte che ne so io o la chiesa parrocchiale o qualunque cosa un luogo un luogo determinato se è possibile un luogo preparato un luogo che sia determinato non solamente fisicamente ma anche dall'affetto con qualche piccolo segno per creare per noi uomini fatti di carne un riferimento che ci sia conforme conforme ecco un giorno Gesù si trovava a pregare e quando ebbe finito i discepoli domandarono lo chiesero lo desideravano signori si dice a pregare perché a pregare non si nasce imparati ma è una cosa che viene spontanea poi è chiaro non so come dire viene spontaneo quando c'è bisogno alzare le mani al cielo viene spontaneo da accendere la preghiera ma pregare non dire preghiere pregare non viene spontaneo signore insegnaci quella di Gesù è una scuola di preghiera perché è una scuola di ascolto del padre è una scuola di dialogo col padre è una scuola di conformarsi alla volontà del padre il signore Gesù continua 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 perché tutti capiscano quando pregate dite padre perché capire che Dio è nostro padre non che si vuole far chiamare padre chiamatemi padre non perché desidera avere un appellativo o un ruolo ma perché ha una verità da dire Dio è nostro padre e non vuole abdicare a questo che ha assunto come suo dovere personale per questa sera concludiamo qua nella prossima occasione continueremo a leggere il Vangelo di Luca capitolo 11 dicci